Ah ci sta, ci sta, ci sta No non è lui, lui non è Pino Lui è Massimo, anche Massimo Un artista emergente Io sono Massimo Sono con gli gruppi ragazzi Se volete passare Non c'è problema per me Io sono felice che passate Certo, certo ma infatti Allora introduciamoti Introduciamoti Introduciamo il tuo personaggio Introduciamo quella che è la tua figura Da rapper ma anche Streamer Videomaker Polietrico È bego È bego Spito Allora Allora Ho sperimentato ieri Queste esperienze del fare le interviste All'Iamer Già e devo dire che è un qualcosa che Che mi piace La trovo sicuramente anche divertente Per me nel senso che mi piace farlo Ok E ti vorrei fare delle domande Se non ti dispiace Ok Se non ti piace rispondere ad alcune domande Facili Facili Non difficili Perché se no Sarai il tuo giudicato Se tu mi dici Se tu mi vuoi Se tu mi dici Non preferiscono rispondere Non rispondere Non c'è nessun problema Comunque Io innanzitutto Innanzitutto Porterei Alla chat Alla chat Il personaggio Chi è Massimo Da dove viene Che cosa fa Quanti anni ha Scopa Tutto Portiamo Un'infarinatura Allora Io mi chiamo Massimo Ho 22 anni Viva Roma Io sono un rapper Da anni Che facevo rap Quanti anni ha Che fai? Quanti anni Allora Anni Non lo so Non lo so Perché Cioè Non Volevo Volevo Di fare rap Però Dicito Di andare avanti Di farlo Ok E E Questa cosa Che Io Lo so Che vuol dire Massimo Non sei bravo Non sei Non sei bravo A fare male Non sei bravo A grippare A me Non me ne fai Perché Dico Io Voleva E non me ne fai Un cazzo E Cioè Io Questa cosa L'ho presa Da 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 Noi di Google Che è inglese Che cosa Che cosa Entriamo nel dettaglio Allora Che cosa Allora Io ho preso Noi di Google Che si chiama Joker Joker Ha cominciato A cattare Grazie Rosario Grazie mille Rosario Com'è Aspetta Aspetta Massimo Io non so Se tu conosci Rosario Muniz Si 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 Allora Si si Ci ha appena Raidato Sai che lui Doveva venire In un live Lo vorrei invitare Rosario Se ti va Se ti va Rosario Magari Non stasera Che cazzo Ma appena staccato No ma appena staccato Non penso Non penso Però un prossimo giorno Se ti va di fare Un giorno Passa Come è brava Visto Se tu lo dice Massimo Ti devi fidare Se tu lo dice Il massimino Ti fidi Capito Ciao Facciamo tutto Comunque vai avanti Vai avanti Massimo Piccola parentesi Per Allora Stavo 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 dicendo Io Questa Questa Cazzone Che farò Uscire Però È una reazione Mia È privata Cioè Non è che vuol dire Che Che mi È una reazione Privata È una reazione Perché È solo mia Cioè La metto come Non la metto So di club Mi la sento Solo io Cioè Perché È privata Quindi Non Non la metto Quindi Tu fai una cosa Che magari Invece tanti rapper Non fanno Tu riascolti I tuoi pezzi Tu Ascolti Magari più volte I tuoi pezzi Non lo dico Per Per Aumentare le views Dico Io prima Accordo Il net Che faccio io Poi lo carico È giusto No? Ok Sì 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 Sto cercando di entrare Nella tua sfera creativa Per capire Da che cosa nasce L'opera È vero Allora Perché Beh Sì Comunque Cioè Io dico no Con i rapper Che c'è uno Con i ragioni Quella Quella ragione Che ho fatto Grazie a Dio Non vedrata io Non vedrata io Cioè Però posso dire una cosa Massimo Al di là Che Al di là Dello scherzare Tutto Comunque è bello Che tu nonostante Questo problema Che c'è con la voce Fai rap Pubblichi Che ti fa freestyling Live Te ne freghi il cazzo Che magari sai Che la gente dice Senti questo qua Capito? A me A me Non me ne frega Un cazzo Io sono Nero via Da questa piattaforma Io sto Sogliegoob E non me ne frega Niente Che la gente Mi viene per il culo Non mi Non è bella Abbiamo scherzato Però E comunque è bella Come cosa Cioè comunque Sentite che Massi C'ha Un problema Diciamo Importante Ok A livello di Di fonetica Di 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 Parlare Però Comunque Sì è una cosa Che non Non farebbero tutti Con il suo stesso Problema E mi hanno Anche Una volta Mi amico Mi hanno Fatto Bella rinuncia Una volta E Ho capito Di chi stai a parlare No No È nato Non è no Non quella persona È nato Che è nato La persona Però non posso Dì Il live Perché sennò Non c'è un casino E Questa persona Che io Lo vivo Alla gente Nella vita Che vuol dire Io Cioè Io lo vivo Alla gente Aspetta Doppio 2 Dov'è che ti ho visto? Doppio Mi sa da sick Che t'ho visto Mi sa che t'ho visto Da sick a te Massimino Il grande rapper Il grande rapper Grazie Sura Dal Mauri Doppio 2 Boh Non lo so No niente No niente Poi è successo Quello che Dimmi Che io rubino Che io rubino La gente Per la vita Ma che cosa vuol dire Quello poi Io Io Stavo a parlare Cioè Io stavo a parlare Con lui In privato Ma non in live In privato E magari O rubino La gente Ma cosa Rubino La gente Per la vita O Sono una brutta persona No Una brutta persona Ma che Cioè io Lai Sono rimasto Molto di merda Molto di merda Perché la gente Non capisce Non capisce Niente Perché la gente Parla 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 E Non capisce Che Il problema Che Cioè io Fu croppo Che parlo male Ma fu croppo Prendo anche Una versione Prendo Sì Sì Ok E poi Mi hanno detto Quello Se Che roba Che io Non posso Lavorare Che non puoi fare Io Non posso Lavorare Tu non puoi Lavorare Per quale Hai ragione Cioè Poi Adesso Mi Amico Io Sono rimasto Io Mi Sono Pensato Ma tu Intendi In un ambito Lavorativo Normale O Twitch Tipo O Rapper No 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 Eh Ecco Bravo Sì Ma tu Non devono Mai morire Le Speranze Non devono Mai morire Le speranze Diventare Un grande Artista Un giorno Sì Sì Però Fare Fare un Freestyle Fare un Freestyle Dal vivo È impossibile Poi A proposito Di fare Freestyle Dal vivo A proposito Di fare Freestyle Dal vivo C'è W2 Che brama Troppo Un tuo Freestyle Ce ne vuoi Dedicare Un ultimo Solo per W2 Che È curioso Di sentirti Allora Quale Volete Quale Volete Una Una sola Una sola Una sola Una sola Va bene Per W2 Lo facciamo Lo faccio Lo fai per noi Va benissimo Ti condivido Eh Dai Dai Vaffanculo Vaffanculo Ti metto Ti metto Questa 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 X pour Cum abolir Pour ceux qui ont trouvé une super voiture d'occasion Recevez jusqu'à moins 30% sur votre assurance auto Tu sei ? Lo senti ? Lo percepis ? O.K. O.Famme lo sentire Lo senti ? O.Famme lo sentire Lo senti ? Ouais Per duen Par duen Han Web as Air Wingahh il mondo se dicono che ci fanno con il mio figlio e nessuno nassuno mi rompe i coglione nessuno e che io sono un mato e che vuoi cammino e che vuoi non capire un caso che io più gana e io sono bravo a che padre e invece vuoi non capire Senti lo Senti lo E noi 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 Famosi Famosi Noi No 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 Solutamente no, queste cose sono da prendere Invece è meglio Con la parola di prima Mi chiede il socio Io ti fai lasciato Io mi dispiace Che io vado a lavorare Su quel b Sì, come cazzo faccio beat La cosa non è capace Perché io sono massimino Pazzo Mi sono fatto prendere dal beat È chiaro, esatto La cosa come cazzo si faccio beat Pazzo, sei conosco il nome Ti voglio bene Sì, sì, voglio te lo conosco Ti voglio bene Non voglio bagnare il mio sufici Perché ti voglio dare un bene in Maui Una domanda o... Sì, sì, ti chiamo di poco Sì, sì, ti chiamo di poco Sì, sì, sì Sì, come cazzo faccio beat Sì, 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 sì Sì, come cazzo faccio beat Mi sono sempre cavace per niente a fumare Sì, sì Sì, 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 sì Guardi un minuto Sì, sì Sì, sì E tu mi hai mai mai stata Pesso la cosa È 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 OK OK Ok, comunque, doppio due, ti dico, il TG ci dovrebbe essere domani, in teoria, però essendo che stasera l'editor, il mio editor, ci ha avuto dei problemi perché doveva fare il podcast suo e sta un attimo incasinato, probabilmente passa domenica. Però, ragazzi, se tra voi c'è qualcuno che ancora non ha visto qualcosa del TG Tarno, se volete ce lo guardiamo insieme, un esempio, un articolo, se volete ci guardiamo insieme un articolo, ok? Ricordavo sì, non è più capito.